Secondo me i soldi servono per avere una maggiore indipendenza sia economica sia finanziaria infatti con con la maggiore età si inizia ad avere questa questa indipendenza anche per esempio per comprare la prima casa il primo affitto comunque sono delle nozioni di educazione finanziaria che sono fondamentali e in tutte le scuole bisognerebbe acquisirle